Federico Ceccherini difensore Continua il calciomercato in casa Crotone Calcio Federico Ceccherini è il nuovo difensore centrale Rosso Blu è nato a Livorno nel 1992 è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Livorno passato in prestito nel 2011-2012 alla Pistoiese Serie D è tornato nel Livorno dove ha lavorato insieme al tecnico Davide Nicola ora nuovo allenatore del Crotone Calcio le presenze in Serie A per Federico Ceccherini sono state 32 quando Livorno invece è tornato nella Serie B altre 32 presenze segnando due gol Federico Ceccherini ha firmato un contratto triennale con la società del Crotone Calcio il primo appuntamento sarà sabato 9 con la presentazione del nuovo allenatore Davide Nicola alla stampa lunedì 11 luglio e martedì 12 si svolgeranno le prime visite mediche appuntamento il 13 luglio a Moccone, Camigliatello Silano per i primi allenamenti questo è il quinto anno consecutivo dove il Crotone si allena in estate nella località Silana prima partita amichevole domenica 17 luglio contro il Real Fondo Gesù mentre il 31 luglio il Crotone Calcio disputerà un triangolare contro il Cagliari Olbia allo stadio Sant'Elia di Cagliari acquistato Federico Ceccherini, Andrea Analini e confermati Nicolo Fazzi e Leonardo Capezzi benvenuto Federico Federico Ceccherini, difensore